Il tumore al seno è causato dalla moltiplicazione incontrollata di alcune cellule, principalmente di quelle della ghiandola mammaria, che si trasformano in cellule maligne. Nel 2022, secondo i dati IOM-AIRTUM, sono stati diagnosticati 55.700 casi di tumore al seno, con un aumento dello 0,5% rispetto al 2020, un trend in crescita già evidenziato e atteso. Le proiezioni indicano infatti che il numero di tumori al seno è destinato a salire nei prossimi due decenni, mediamente del 2-3% ogni anno. Marco Klinger ha intervistato per il format TV Medicina Top prodotto dall'Ital Press Oreste Gentilini, coordinatore Breast Unit del San Raffaele di Milano. La terapia neodiuvante è nata inizialmente per i tumori che non erano operabili, per farli diventare operabili. Poi per i tumori che erano grandi, per farli diventare piccoli e quindi evitare o ridurre il numero di pazienti sottoposti a mastectomie. Adesso in realtà il motivo forse principale per cui viene eseguita una terapia sistemica preoperatoria è quella di valutare la risposta in vivo e in questa maniera, soprattutto in determinati tipi istologici, principalmente quelli cosiddetti tripli negativi o R2 positivi, abbiamo la possibilità di verificare se le terapie che stiamo somministrando funzionano oppure no e eventualmente correggere il tiro. Quindi nelle persone nelle quali la terapia non si dimostra perfettamente efficace, abbiamo la possibilità di modificare la tipologia di trattamento e in questa maniera ridurre significativamente il rischio di ricademia. Io devo dirti che ho seguito personalmente un po' dalle nostre pazienti in Humanitas e spessissimo i risultati sono sbalorditivi. Hai delle situazioni iniziali in cui ti metti le mani nei capelli, questo lo dico per confortare tutti i nostri amici a casa e invece in realtà la terapia mediodivante le risposte sono talmente clamorose che poi alla fine sono pazienti che in qualche modo stanno bene. Poi ci sono stati anche farmaci molto molto innovativi che hanno migliorato la situazione, per cui come dicevo prima nel formato triplo negativo ad esempio adesso abbiamo l'immunoterapia e quindi si ottengono dei risultati straordinari. A me sembrano resta che voi italiani, noi italiani perché noi tutti siamo parte delle vostre breast unit, anche se non siamo i chirurghi veri della mammella come voi, però siamo all'avanguardia veramente nel mondo, nel senso che siamo comunque molto rispettati noi, breast unit italiani. Direi proprio di sì, la ricerca senologica è sempre stata all'avanguardia. Abbiamo un nome che è stato lì, papà di tutti e da lì in avanti. In realtà anche i numeri ci dimostrano questa cosa perché in realtà anche la percentuale di guarigione che abbiamo in Italia, che è 88% a 5 anni, è superiore rispetto a quella di tanti altri paesi importanti ed evoluti.